Allora, quali sono i compiti e le strategie degli adolescenti oggi? Secondo Pietro Polli-Cermé, gli adolescenti hanno tre compiti esistenziali che sono paragonabili a scalare tre volte l'Everest. Devono soggettivizzare l'infanzia, trasformare le relazioni sociali e trasformare il proprio corpo. Soggettivizzare l'infanzia vuol dire che per la prima volta l'adolescente si rende conto nella vita che la sua infanzia è stata diversa da tutti e che quindi lui è solo nel mondo. Quando uno è piccolo pensa che se la mamma lo mette a letto raccontando la fiaba, anche il babbo del cavallino, la mamma del cavallino, metterà a letto il cavallino raccontando la fiaba. Che come funziona la sua vita funziona tutto il mondo. C'è una sorta di flessibilità, quello che accade deve accadere, invece l'adolescente ha una paura terrificante di essere scoperto come soggetto fragile. Per questo nasconde la sua infanzia, perché la sua infanzia è unica. Lo rende unico, questo è straordinario, è artistico, però l'adolescente ne ha paura. E per questo gli adolescenti diventano terribilmente conformisti, terribilmente omologati. Magari anche in atteggiamenti che sono anticonformisti rispetto alla società, ma conformisti rispetto al gruppo sociale di riferimento. Inoltre c'è una trasformazione del corpo come non mai. Una trasformazione del corpo che porta il corpo di molte ragazzine a diventare accattivante, piacevole. Però devono sopportare anche degli sguardi del maschio adulto al quale non sono abituate. Molte di queste sono gratificate ma spaventate e quindi piangono. La trasformazione del corpo dei maschi è un trascinare, un corpo che non mi appartiene. Per questo anche i maschi si lavano meno, perché il corpo è come se non lo sentissero. Li è sfuggito, quindi diventano goffi, non lo sanno gestire. E la trasformazione delle relazioni sociali. Prima bastava che ci fossero nonna, nonno, babbo, mamma. Io ero il bambino più felice del mondo, ora ho bisogno del mio gruppo. E il gruppo conta più dei genitori, conta più della famiglia. I genitori questo lo devono accettare perché senza il gruppo io sono uno sbandato. Quindi io devo fare questa operazione. Per fare questa operazione di crescita io ho bisogno di uccidere il bambino interiore che è dentro di me. Per fare questo tipo di operazione io ho bisogno di non essere solo. Non posso chiedere aiuto a babbo e mamma, non posso chiedere aiuto a chi mi è troppo vicino. Ho bisogno di un adulto significativo di riferimento. Ecco, questo è fondamentale. Aiutare i docenti, gli istruttori del tempo libero a capire, formarli ad essere adulti significativi che possono aiutare l'adolescente ad uccidere il bambino interiore che è dentro di sé per avviare un percorso di crescita armonica.